Un saluto amici da Guido Bagatta, benvenuti e bentornati da queste parti. Beh, anche noi non possiamo che celebrare la vittoria dell'Inter, il ventesimo scudetto dei Nerozzurri, la doppia stella che ormai tutti aspettavano, è arrivata nel momento più curioso per gli interisti e per i milanisti. Perché per i primi direi che meglio di così non poteva andare al di là del fattore meteorologico per la festa che è stata così bagnata, però come si diceva una volta, scudetto bagnato, scudetto fortunato. Una festa molto fredda per la temperatura invernale di Milano, ma arrivata al momento giusto perché? Perché seguita allo scudetto vinto nello stadio anche dei cugini nemici con il Milan in casa, beffato proprio dai numeri, da un calendario curioso. Ma noi non parliamo del Milan che però sul campo, direi, avrebbe potuto comportarsi meglio. Larissa nel finale con le espulsioni non fa onore ai rossoneri, così come anche Pioli, che è un ottimo allenatore e anche una piacevolissima persona con la quale conversare e da vedere anche dietro un microfono. Anche questa volta direi che ha un po' sbagliato la misura delle sue dichiarazioni nel post partita. Ma di questo non è giusto parlare adesso perché dobbiamo dare merito all'Inter. Io, per sottolineare quello che è successo quest'anno, tornerei a due anni fa, più o meno l'aprile del 2022. Due anni fa, con lo scudetto che poi andrà al Milan, l'Inter era praticamente a terra. Tutti volevano la testa di Simone Inzaghi, soprattutto dopo la partita, il recupero con il Bologna, che costò lo scudetto ai neroazzurri. Simone Inzaghi ha resistito allora. Ha resistito anche l'anno scorso, perché l'anno scorso, prima del rush in Champions, anche lì Marotta difese il suo allenatore da tanta gente che lo voleva defenestrato. Dai tifosi anche dei dirigenti interni al canero azzurro. Marotta fu lì lì per dare il ben servito l'anno scorso, così come due anni fa, ad Inzaghi. Ma da grande esperto, qual è? Resistette due anni fa e ha resistito l'anno scorso. E il premio è stata la finale di Champions l'anno scorso, ma ancora di più lo scudetto di quest'anno. Che è uno scudetto di una squadra che è stata costruita bene, facendo un mercato, tra l'altro, eccellente, ma anche a risparmio. Per l'altro, già programmato il mercato per l'anno che verrà, cioè per il prossimo campionato, con un paio di entrate a parametro zero, che fanno felici ovviamente i contabili delle squadre, perché non c'è il costo del cartellino. Ci sono altri costi, ma non quello del cartellino. Marotta l'anno scorso e quest'anno è stato bravissimo. Ha portato in dote agli zanghe, peraltro assenti alla festa dell'Inter. Il padre non si vede da tempo in membro. Il figlio recentemente era parso a Milano, ma è rimasto in Cina. Ha mandato un video abbastanza inquietante, perché piatto, piattissimo, come sua testimonianza per lo scudetto vinto. Gli zanghi non c'erano, ma in dote, ancora una volta, hanno avuto da Marotta una squadra perfetta, in tutto e per tutto. Una squadra che ha fatto la differenza più o meno sin dalla terza a quarta giornata. Si è capito che poteva essere l'Inter di quest'anno il Napoli dell'anno scorso. E più o meno il percorso è stato quello. La differenza qual è? La possiamo anche decifrare con il seno di poi. È che non c'è dell'Aurentis, ci sono i zanghi assenti, ma con Marotta deputato a decidere. E soprattutto non ci sono dei casi come quello di Osimène, non ci sono dei casi come quello di Spalletti. Quindi il futuro dell'Inter è garantito. Questo non vuol dire che l'anno prossimo rinvincerà lo scudetto, ma col seno di poi, visto quello che è accaduto quest'anno al Napoli, possiamo dire che andrà sicuramente meglio. Complimenti ai Nerozzurri. 20 scudetti, 2 stelle con grandi prospettive. E soprattutto all'allenatore come Simone Inzaghi, che ha dimostrato quest'anno di essere veramente uno dei top per quanto riguarda l'Europa. Probabilmente uno dei primi 5 allenatori del vecchio continente. A domani ancora da queste parti. Un saluto da Guido Pagata.